Dall'asilo nido alla scuola primaria, il menu scolastico è a portata di click. È ciò che accade a Camerino, grazie ad un nuovo servizio pensato per la comunità, in primis per le famiglie con i bambini che usufruiscono del servizio Mensa. Il sito web che racchiude giorno dopo giorno tutte le informazioni si chiama Cresciamo Insieme, la cui icona si può aggiungere nella home page del proprio dispositivo. Un'app innovativa dove tutte le famiglie potranno accedere e verificare sia la qualità del servizio sia quello che si può mangiare. Il servizio Mensa del Comune di Camerino è stato sempre un'eccellenza negli anni e quindi un punto di riferimento anche dal punto di vista nutrizionale e di qualità. Lo strumento è stato messo a punto dal lavoro corale tra il Comune, Gemos, Iesi Servizi e il Comitato Mensa. È attivo dall'inizio dell'anno scolastico in concomitanza con una nuova modalità del servizio Mensa adottato dal Comune. Cresciamo Insieme va ad alzare l'asticella e ad accendere i riflettori sull'importanza della giusta alimentazione sin dalla tenera età. È un contatto diretto che le famiglie hanno entrando nell'app dove giornalmente vengono elencati praticamente i menu e addirittura con le caratteristiche nutrizionali. Quindi in maniera diretta e capillare quello che il bambino va a mangiare a Mensa. L'obiettivo è informare su ciò che si fa ma anche continuare a migliorare il servizio Mensa grazie ad un dialogo costante con al centro le famiglie. Il portale che ad oggi è aperto a tutti è infatti in continua evoluzione e sarà arricchito nel tempo con ulteriori dettagli. Caricheremo di volta in volta tutte le notizie relative al servizio, quindi menu speciali, progetti di educazione alimentare o anche video divulgativi su sempre concetti legati all'alimentazione. e mano a mano che porteremo avanti con il Comune dei nuovi progetti verranno divulgati e comunicati attraverso il portale.